Buongiorno da San Mauro Forte, avete sentito il fragore dei campanacci? Siamo qui con Emilia Rettura per raccontare in diretta il giorno straordinario che vive questa comunità. Siamo assieme a Piera e Laura, due esponenti come vedete di questo centro. Piera è una bambina che frequenta le elementari, che però sceglie ogni anno di vestirsi con l'abito tradizionale. Perché? Perché questo era il vestito tradizionale. E ti piace portarlo sempre. Invece Laura è di San Mauro Forte, ma arriva da Milano. Ogni anno torna qui proprio per i campanacci. Direi proprio di sì. Quest'anno poi ho voluto provare anche l'emozione di vestirmi con quelli che possono ricordare, sono senz'altro, i costumi del nostro paese. Per rinverdire, per rinfrescare, per ricordare quelle che erano le nostre genti quando facevano questo tipo di festa, di sagra, che veramente ci prende il cuore. Lei è anche bravissima a suonare il campanaccio, che fra l'altro non è per niente facile, è molto pesante. È vero, questo è vero. Infatti ieri sera abbiamo suonato tantissimo per le strade del paese, abbiamo inondato gli intocchi delle nostre campane. E comunque la schiena, le spalle fanno male, ma tutto si fa, non ci sono problemi. Ma conosciamo un po' meglio questo centro. Grazie a Adriano Bruno, che è un giovane che all'occasione fa anche da guida, entriamo in questo comune della collina materana. Ascoltiamo Adriano. Buongiorno a tutti, ci troviamo a San Mauroforte, è un centro urbano le cui origini risalgono circa all'undicesimo secolo. I terreni appartenevano alla contea di Montescaglioso, la direzione spirituale invece era sotto la guida della diocesi di Tricarico. Le origini appunto risalgono all'undicesimo secolo, come dicevo prima, quando un barone vassallo della contea di Montescaglioso decise di costruire il suo palazzo baronale, su cui resta adesso c'è la chiesa madre. Possiamo ammirare quella che è la torre normanna dell'epoca del XII secolo. La torre normanna è l'unico resto di quello che era il palazzo baronale del tempo. È una torre che si sviluppa su tre piani ed è alta circa 22 metri. Non si riesce ancora bene a capire tramite i documenti se potesse essere l'unica delle torri presenti oppure ce n'erano altre simili. Questo comunque è un maschio. Ultimamente è stata ristrutturata, infatti è stata trovata anche una palla di cannone che è conservata adesso presso la sede comunale. All'interno ci sono anche dei sottopassaggi che permettevano l'ingresso e l'uscita da parte di nobili senza utilizzare le vie principali. Tant'è che San Mauroforte divenne anche luogo in cui rifugiarsi durante il periodo delle scorribande. In base alla struttura di questa torre e poi all'importanza dei palazzi baronali, nel 1700 altri baroni riscattarono il fiodo di San Mauroforte e ricostruirono le loro residenze. Una cosa importante è l'esposizione dei palazzi e i rispettivi ingressi. Infatti le principali famiglie hanno la direzione rivolta verso la torre, però alcune di loro hanno l'ingresso sulle strade laterali della torre, mentre il palazzo dove vive la famiglia è probabilmente il più importante, è l'unico palazzo da avere l'ingresso direttamente sulla piazza. Solo che in questo momento è in ristrutturazione. Buongiorno, siamo qui da un altro scorcio di questo bel paese della collina materana e siamo in compagnia del sindaco Francesco Di Biase. Allora sindaco abbiamo sentito in questo contributo un ragazzo giovanissimo, Adriano, che ci ha fatto da Cicerone all'interno di questo paese. Questo perché qui a San Mauroforte anche i giovani hanno voluto riscoprire le tradizioni e riportare in auge questa festa. Esattamente, è una tradizione che si... nella continuità, per ogni anno c'è qualche cosa di nuovo. E soprattutto questi giovani che danno una mano, sia come Proloco ma anche come altre associazioni, tendono con i ragazzi, con i giovani, di far rivivere sempre questa tradizione, rinnovandola. Anche perché questo è un paese piccolissimo dal quale si va via magari. Si va via purtroppo e si ritorna in queste circostanze. La popolazione è di 1700 circa, però quelli che vivono abitualmente sono 1200-1300. Però in queste giornate molti tornano dalla Germania, da Londra, dall'Inghilterra, dai paesi lontani per rinsaldare questo legame col paese. Questo legame. Allora abbiamo detto una tradizione antichissima che si vuole riportare in luce. Vediamo cosa succedeva esattamente nel 1992, per una giornata come oggi, ce lo racconta il nostro telegiornale Luigi Di Lauro. Leggenda e tradizioni pastorali a San Mauroforte, piccolo centro della montagna materana, ancora una volta si prendono per mano e danno il via ai festeggiamenti per il carnevale. Così anche ieri sera, come succede ormai da oltre 60 anni, tra il frastuono di centinaia di campanacci, terremoto il pastore più anziano del paese nel suo coloratissimo costume, con la testa del maiale appena sgozzato appesa al collo, ha dato il via alla festa del campanaccio. Un antico rito propiziatorio dedicato a Sant'Antonio Abate, alla quale da sempre partecipa l'intero paese. Per tutta la notte squadre di amici, intere famiglie, dai più piccoli agli anziani, percorrono le antiche vie delle cantine al rintocco dei campanacci, coperti dai classici manti dei pastori e oggi anche dai costumi più stravaganti. Salsicce e frittelle, elementi tipici del carnevale, si uniscono ad un fiume di vino che i proprietari delle cantine offrono in segno di amicizia. Tutti, a cominciare dal primo cittadino, aprono le porte delle case per dare ristoro ai campanari e i banchetti vanno avanti fino a notte in oltrata. Una delle tradizioni più antiche, quella di San Mauro Porte, che i cittadini in ogni occasione hanno difeso a denti stretti e che le amministrazioni recenti stanno tentando di rivitalizzare, ma le infrastrutture praticamente inesistenti non danno certo una mano al volenteroso governo locale. Abbiamo sentito nel pezzo di Luigi Di Lauro i banchetti che vanno avanti fino a notte in oltrata, così è stato qui anche ieri, perché ieri è cominciata la festa, sono cominciate le celebrazioni con le cantine aperte, evento al quale hanno partecipato anche tanti giovani, lo abbiamo detto, i giovani che ritornano, come Anna che è arrivata da Padova proprio per partecipare a una festa del genere. È un sentimento più legato al clima familiare che si respira oppure proprio un sentimento religioso della festa? Entrambe le cose, perché il campanaccio è prima di tutto un modo di essere, per cui chi come me è andato via da San Mauro ritorna in occasione di questa festa per abbracciare la tradizione, i sapori, appunto fare il percorso cantine aperte. È un momento importantissimo per San Mauro e essere il campanaccio è San Mauro. Allora cominciamo a scoprire questa festa, oggi lo ricordiamo è il giorno di Sant'Antonio Abate, Beatrice cosa c'è dietro a tutte queste ricorrenze? E dietro a tutte queste ricorrenze c'è, come accade sempre, un santo, un santo molto importante perché a lui sono collegate delle terapie, ricordiamo fra l'altro che prende il nome da Sant'Antonio Abate, anche l'Eppes Zoster, il fuoco di Sant'Antonio. Ricordiamo che è il protettore degli animali, quindi era amatissimo in queste microeconomie rurali ed è un santo anche importante perché è il santo a cui si collegano delle cure, delle cure speciali che venivano attribuite agli animali e anche agli uomini. E poi sono collegati a questo santo anche i fuochi, i fuochi di Sant'Antonio. Credo che qui non ci sia l'usanza, Nicola, in altri paesi vicini sì. Sì, in altri paesi vicini c'è l'usanza, prima c'era adesso scomparsa, però faremo... Magari ritorneremo l'anno prossimo, troveremo un grande falò. L'importanza del falò è collegata proprio al ritmo della natura, perché si bruciavano i rami che erano stati potati per dare nuova linfa alla pianta, ma era anche un modo per segnalare la rigenerazione della natura. Abbiamo ascoltato il direttore dell'Istituto Teologico di Basilicata, Don Francesco Ierinò, che ci spiega qualcosa in più proprio su questa figura di Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio non è un santo recente innanzitutto. È nato a Coma, in un villaggio dell'Egitto, nel 250 d.C., ed è vissuto 106 anni. Sant'Antonio Abate è prima di tutto un giovane cristiano, che a 20 anni, orfano dei genitori, ma di famiglia benestante, nell'Egitto di allora, Egitto cristiano, sente il richiamo del Vangelo, specialmente un versetto del Vangelo. Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Questo versetto, ascoltato dal giovane Antonio, cristiano, determinò la conversione totale della sua vita, per cui rinunciò ai suoi beni e scelse il nuovo martirio, si chiamava nella Dichità, cioè dopo il martirio cruento delle persecuzioni dell'imbero romano, con l'editto di Costantino, l'editto di tolleranza verso il cristianesimo, si creò all'interno della spiritualità cristiana il filone del monachesimo, cioè finito la testimonianza del sangue, inizia la testimonianza della vita, cioè il rifugio nel deserto per l'ascolto della parola di Dio e per l'incontro con il Signore e la totale consacrazione della vita a Lui. Il monachesimo, man mano, ebbe grandissimo successo presso il popolo cristiano. Si diffuse dall'Oriente fino all'Occidente, i monaci però, accogliendo i poveri e stando anche in mezzo alla gente, riuscirono anche a coalizzare attorno a sé attività, anche l'attività agricola. I popoli accolgono quest'input dei monasteri e diventano quindi i santi, i fondatori, gli stessi monasteri, riferimento dell'ambientazione rurale e agricola. Il caso di Sant'Antonio è singolare perché le sue reliquie nel V secolo, quindi nel VI secolo, vengono portate in Occidente, in Francia, a Mont-Sendidie. Questo monastero che ha le reliquie di Sant'Antonio nel Medioevo diventa centro di pellegrinaggio. Il santo viene invocato specialmente per la guarigione dell'Ignis Sacer, il fuoco sacro, che era un avvelenamento viscerale ed era curato con il grasso di maiale anche che erano allevati in questo monastero. Quindi l'abbinamento, il culto di Sant'Antonio, l'attività terapeutica di questo monastero santuario, l'allevamento dei maialini, crea il legame con il santo. Poi si estende questo patrocino di Sant'Antonio sull'attività degli allevatori, l'attività così rurale. Ecco allora il protettore delle fattorie. Ringraziamo Don Francesco Sirufo, Anna Giammetta, giornalista. Questa festa è anche comunicazione. Abbiamo parlato prima con Emilia e con Anna dei San Mauresi che stanno lontani, che ritornano. Altri però attraverso il web si tengono costantemente in contatto con questa località e soprattutto diffondono sempre di più la festa. Sì, abbiamo cercato tramite la comunicazione di rafforzare sempre più il messaggio e anche di far conoscere la festa. Oggi grazie anche al web il tutto diventa molto più semplice perché la rete raggiunge qualsiasi parte del mondo. Non mancano però articoli su testate locali, non solo su testate locali. Questo abbiamo visto che ha avuto profondo interesse anche per quanto riguarda antropologi, nuovi turisti. E quindi il messaggio comunicativo, siamo convinti, va portato avanti e dobbiamo continuare su questo fronte. E a proposito di antropologia, Emilia, adesso abbiamo un altro contributo. Della Basilicata Ferdinando Mirizzi che ci parla appunto di questi carnevali, di questo carnevale che è legato alla ruralità, al territorio, alla coltivazione dei campi. Oggi si dà il via e festeggiamenti non solo qui ma in tanti altri centri della Basilicata. Sentiamo. Il carnevale nella tradizione agropastorale lucana è la festa che dà inizio ad un nuovo anno. È l'espediente attraverso il mascheramento di annullare la propria individualità e diventare qualcun altro per poi infine ricrearsi. È la trasgressività, è la liberazione simbolica dei patimenti giornalieri per sostenere per una volta all'anno una realtà sognata. Il carnevale in Lucania ha una lunga tradizione proprio di carattere agropastorale. I più noti carnevali di questa regione affondano le loro radici in un contesto agropastorale che è evidente nelle forme attraverso cui il carnevale si manifesta. Ad Aliano come a Tricarico, a San Mauroforte come a Satriano di Lucania, a Teana, a Montescaglioso per citare i paesi in cui i carnevali sono più conosciuti nell'ambito regionale ed anche extra-regionale. In questi ultimi anni abbiamo assistito e stiamo tuttora assistendo ad un processo di ritradizionalizzazione attraverso un riapprendimento delle forme in cui i carnevali erano vissuti in passato. Direi che questo processo sta arricchendo il carnevale in una nuova forma. Cioè queste tradizioni stanno adesso riemergendo come patrimonio culturale su cui le comunità scommettono anche per il loro sviluppo, per la costruzione di una specificità culturale in un mondo plurale. Quindi direi che i carnevali tradizionali in Basilicata rivisitati sono oggi molto attivi, molto dinamici e si sono potenziati direi anche rispetto al passato. E nell'intervista a Dino Battista il professor Mirizzi parlava di questa voglia di recuperare i carnevali in Basilicata. Anche a San Mauro è stato così. Per un certo periodo Anna Giammetta il carnevale, i campanacci erano stati un po' archiviati. Soltanto un piccolo gruppo di persone li portava avanti. Invece, soprattutto a partire dall'inizio degli anni 90 c'è un nuovo impulso che è stato dato a questa celebrazione tradizionale e come diceva prima Emilia anche i giovani si sono incanalati anzi c'è proprio un orgoglio dell'appartenenza della propria radice. Sì, c'è stato non solamente un ritorno di una generazione appunto che si è appassionata al campanaccio ma ci sono state anche le new entry delle donne perché prima il campanaccio era solo appannaggio degli uomini e quindi da qualche anno le donne sono parte attiva di questa festa e hanno riscoperto diciamo il vestito tipico di San Mauro e poi abbiamo valorizzato attraverso questa festa i prodotti tipici e quindi si è creato un circuito virtuoso intorno al campanaccio. Ma a proposito di tradizioni di passato facciamo un salto molto indietro nel tempo il concetto di maschera nell'antichità la Basilicata ovviamente come sappiamo tutti ha una storia lunghissima e dalle viscere della terra emergono dei reperti preziosissimi che ci fanno capire che cosa voleva dire un tempo mascherarsi andiamo nel museo Domenico Ridola di Matera dove la direttrice Anna Maria Patrone ci parla appunto delle maschere attraverso dei vasi. Il concetto di mascheramento ha radici molto antiche sia fonti documentarie che raffigurazioni presenti nei reperti conservati qui nel museo Ridola ci attestano proprio nell'uomo dell'antichità questo desiderio ogni tanto di abbandonare la propria identità per assumerne una diversa e abbiamo qui presenti appunto sia delle raffigurazioni di maschere del teatro comico in particolare ma soprattutto raffigurazioni di scene collegate con i riti dionisiaci. Un altro interessante aspetto è la raffigurazione presente su questo cratere a figure rosse di una scena del teatro comico nella quale appunto i personaggi che hanno fattezze caricaturali indossano queste maschere appunto per recitare all'interno di queste rappresentazioni teatrali di tipo comico. Su questa oinocoe è raffigurata proprio una maschera tragica che veniva indossata durante le rappresentazioni. Bene, allora stiamo vedendo inquadrato in questo momento il protagonista di questa festa il campanaccio con il signore Emanuele ci fa sentire allora il suono dal vivo di questo strumento ricordiamo anche a cosa serve ecco sta indossando ecco noi in questo momento lo sentiamo piano ma questo è il suono che oggi si sentirà nel paese non solo ma assieme ad altri si sentono tanti tanti rumori ecco tanti rumori a cosa serve questo suono il significato beh il significato è un duplice significato è religioso e anche edonistico il religioso si cerca sempre di agganciare di far sì che l'anno agricolo trascorso si aggancia ad un anno agricolo che deve venire propizzandosi un anno agricolo migliore e tenendo lontano i mali quindi abbiamo anche un rito apotropaico questo è l'altro aspetto il binomio che si aggancia alla religiosità far sì che il Padre Eterno ci dia un futuro quindi un anno che sta entrando che si è migliore dell'anno trascorso però ciò che è importante per noi che veniamo come è stato accennato prima noi abbiamo abbandonato lasciato temporaneamente una quotidianità di impegni ci stiamo tuffando in una quotidianità diversa edonistica senza altro di mancerecci salsiccia e vino e poi però si lavorerà ma soprattutto una quotidianità una ricerca un desiderio un grande desiderio di chi viene da lontano di San Mauro per far rivivere tradizioni soprattutto cultura e far rivivere questi paesi che stanno molendo per tanti tanti motivi e questo significa anche creare un indotto intorno a questa manifestazione perché ci sono tante persone tante aziende che cercano appunto di sopravvivere grazie a questa festa Beatrice Volpe in questo servizio ci dà uno spaccato di una delle tante aziende appunto che sul territorio cerca di produrre vediamo fazzelle schiutte perciadozze fazzelle pettole e struppoli pochissimi ingredienti molta manualità e passione questi segreti dei dolci invernali di pomarico che nonna Caterina ci presenta orgogliosa del proprio lavoro la famiglia con la surdo perpetua la tradizione gastronomica dimenticata in molte case questo è il nostro tipico dolce pomaricano in dialetto le peschiette vengono chiamati che è fatto di farina di grano duro con acqua viene lavorato a mo' di pasta o meglio a mo' di spaghetti data questa forma e dopodiché vi vengono cotti direttamente nel caramellato di miele del nostro miele la signora Agnese Cherchi vive a pomarico da 50 anni sarda di nascita ha imparato benissimo a fare i formati di pasta tipici di questa parte della basilicata e anche i dolci gli ingredienti sono semplicissimi questi sono tutti dolci tipici invernali in molte case queste tradizioni sono ormai abbandonate però noi grazie a nonna Caterina le abbiamo mantenute e le portiamo avanti la qualità di questi prodotti è garantita dal nostro miele che è un miele locale lavorato a mano i mieli utilizzati per condire sono mieli delicati quali il miele di acacia il miele di sulla il miele agli agrumi e il miele il miele ai fiori non sprecare nulla e così le pettole fritte alle vigili di Natale non consumate vengono ripassate nel tegame del miele diventano un dolce semplice e gustoso nelle campagne intorno a Pomarico le api aspettano che arrivi la stagione dei fiori le arnie vengono spostate a seconda del periodo per evitare che le temperature troppo rigide infastidiscano i preziosi insetti per noi l'apicoltura è una tradizione che viene da lontano già il nostro bisnonno aveva i primi sciami selvatici poi il nostro nonno fino ad arrivare a papà adesso ci sono io con anche gli altri cucinetti oggi siamo venuti a vedere come prosegue lo svernamento degli sciami c'è poco movimento sugli alveari proprio perché in questo periodo le api lavorano pressoché poco c'è in alcuni alveari della pasta di zucchero che è il cibo che si aggiunge agli sciami proprio durante il periodo invernale e le scorte di miele all'interno dell'arnia sono quasi nulle la lavorazione del miele inizia principalmente all'interno del laboratorio i melari arrivano in laboratorio con i favi pieni di miele opercolati l'opercolatura è un sottile strato di cera che le api dispongono sulle celle quando appunto il miele è maturo andiamo a rimuovere lo strato di cera ovvero l'opercolatura che appunto va a tappare le cellette con il miele dentro una volta rimossa l'opercolatura i favi vengono messi all'interno della centrifuga questa qui è sempre una centrifuga a mano una volta messa riempita la centrifuga con i favi pieni di miele dopo sempre aver rimosso l'opercolatura inizia la smelatura in questo modo appunto nella smelatura il miele si distenderà sulle pareti della centrifuga e scenderà sotto al termine appunto della smelatura il prodotto finale sarà appunto il miele il miele dopo essere stato raccolto in secchi o altri tipi di contenitori verrà filtrato e messo a decantare per circa 20-30 giorni qui abbiamo i prodotti dell'alveare dal miele che è dal miele monofluoreale quindi sulla arancio e eucalipto fino al miele di millefiori sono tutti sono tutti mieli della zona quindi con fiori della zona fiori locali qui abbiamo il caramellato di miele che è un derivato del miele prodotto dalla nostra azienda fino ad arrivare ad altri prodotti dell'alveare che sono il polline e l'apropoli il polline è considerato un alimento proteico fino ad arrivare all'apropoli che è una resina che producono gli alberi la quale viene raccolta dalle api lavorata e utilizzata all'interno dell'arnia per sigillare eventuali fessure proprio è considerata appunto una sostanza con proprietà antisettiche antibatteriche antinfiammatorie quindi è considerato l'unico antibiotico naturale bene siamo qui con Antonio Pennacchi abbiamo sentito un collega di Pomarico lei invece produce il miele qui a San Mauro Forte si riesce a lavorare in questo settore? si riesce a lavorare tra virgolette perché purtroppo l'inquinamento anche qui inizia a sentirsi però pian piano cerchiamo di tirare avanti tra tante difficoltà il mercato comunque c'è? il mercato c'è ed è in fase di aumento però purtroppo non riusciamo a soddisfare le esigenze nemmeno a livello nazionale quindi potrebbe esserci ancora più produzione? potrebbe esserci se il clima sia un po' più clemente nei nostri confronti possiamo riuscirci noi siamo qui all'interno di una cantina del paese fulcro appunto è anche simbolo delle attività che si possono e che si sono venute a creare qui a San Mauro Forte Beatrice sono tante esperienze diverse sono tante vediamo con piacere che ci sono anche dei giovani che si avviano come Angelo Valluzzi produttori di olio voi ci credete ancora nell'agricoltura anche se non è stato facile soprattutto quest'anno? sì quest'anno è stata un'anata molto difficile comunque siamo riusciti a fare anche anche quest'anno un bel prodotto nonostante abbiamo avuto un calo di produzione del 50-60% Pietro Mita lei invece ha investito sul vino siamo del resto in una cantina non è la sua quindi da qui possono nascere dei vini interessanti che però non sono conosciuti neppure in Basilicata infatti è così voglio ringraziare il padrone di casa che ci ha permesso di essere qui in questo momento e di tirare avanti con questo prodotto che si sente ancora alla base di tutto questo è un grande sforzo imprenditoriale ma ci sono San Mauresi che sono diventati piuttosto noti all'estero conosciamo Leonardo Caporale che gestisce un ristorante a Francoforte e qui ha una sua vetrina speciale le mie origini sono quelle che hanno fatto partire conoscere tutti i prodotti della regione e portarli oltre Alpi è una cosa stupenda quindi sono ritornato da dove sono partito io sono partito perché conoscevo conoscevo mangiavo a casa mangiavo tre volte calda al giorno perché la mamma cucinava fresco non andava sul mercato e queste origini ho dovuto riportare qui e portare tutto il mondo che conosco come distillati grappe vini non solo regionale ma altri paesi nuovi paesi del mondo e sono felicissima di essere un lucano abbiamo presentato tutti i prodotti di Lucano abbiamo presentato in televisione al terzo programma si ripete adesso penso al festival del Rheingau Rheingau è un paese dove sono le vigne dove si produce Riesling Riesling tedesco che adesso per il cambio di temperatura è un prodotto molto buono molto minerale e quindi abbineremo i nostri prodotti specialmente verdure e pesce per portarli poi a dimostrare che col vino anche oltre si può fare delle cose stupende e fra le cose stupende ci sono anche i pistacchi Giuseppe Malacarne lei sta investendo con una serie di prodotti nuovi sempre per il discorso che un giovane ci deve provare in qualsiasi modo è certo pur di rimanere in questo paese uno cerca di inventarsi insomma qualsiasi modo per creare un'impresa creare reddito e cercare di sfruttare come dire le potenzialità che questo paese ha Gabriele lei invece ha investito soprattutto sui latticini una bella azienda che si sta affermando molto velocemente devo dare la linea a miglia certo noi abbiamo investito circa 14 anni fa in questa azienda in questo paese paese nativo e cerchiamo di comprendere il comprendonio di fare il possibile Emilia allora sì sindaco l'appuntamento principale oggi a che ora? dalle 18 in poi c'è la sfilata dei campanacci quindi vi aspettiamo tutti a San Mauro quindi l'appuntamento è per oggi Beatrice chiudiamo qui questa diretta e ci vediamo alle 14 buona giornata e ci vediamo alle 14